Riparte la campagna mediatica anti Juventus. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Signori miei, la Juve ha tutto sotto controllo, state calmi e siete tranquilli perché la Juve non fallirà mai, perché la Juventus è dietro a una società seria e forte. Però c'è già chi inizia a mettere titoloni per accendere l'ambiente. Vi faccio vedere un po' quello che hanno scritto e poi vi dico qual è la verità attuale e qual è la base solida della Juventus. Iscrivetevi al canale perché sono sempre qui a difendere puntualmente la nostra Juventus e a smascherare chi vuole smascherare malamente la Juve. Lasciate poi un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perderete mai un video e siamo sempre. Partiamo subito, vi faccio vedere questi due titoloni che stamattina sono apparsi nel web. Secondo loro la Juve è già pronta a beccare forse una penalizzazione, a fallire, ma quale risanamento, e qui c'è un rosso, ma che rosso! Allora, stiamo calmi. Innanzitutto la Juventus entro il 2027 risanerà tutto il debito. Perciò, carissimi amici che mettete questi titoloni per far accendere l'ambiente, andateci calmi. Perché voglio ricordare una cosa, ci sono società in Italia che hanno veramente debiti, che sono falliti, che sono stati pignolati, che sono stati presi dai bassi fondi e riportati su. E non è successo niente. La Juve i debiti ce l'ha, ma sono debiti che la famiglia Elkan Barragnelli sta controllando alla grande. La Juve sta risanando tutto, a differenza di qualcuno che ad oggi fa parte di un fondo bancario e non si sa poi come andrà a finire. Io voglio dire specialmente a tutti i Juventini, ragazzi, state calmi, non cascate nel tranello di questi titoloni che la Juve può essere ripenalizzata, attenzione perché se i conti vengono fatti bene, tiriti e taratà. Ragazzi, tutta invidia, tutta invidia. Per quale motivo? Per un semplice motivo. C'è chi è sotto la famiglia Elkan e Barragnelli, una società seria, una società che dura ormai da 100 anni e non ha mai avuto un cedimento di fallimento. La Juve i debiti li fa, ma allo stesso tempo c'è la ricapitalizzazione. E qualcuno scrive che non basterà. Ragazzi, come sempre dico e ripeto, con il 2% del fatturato Exor, la Juve compra l'Inter, il Milan, la Lazio, il Napoli, la Roma, la Fiorentina. Li mette in giardino e li fa giocare a calcio a 5. Per rendervi conto qual è la situazione. Però ovviamente qualcuno ci vuole marciare, qualcuno vuole fare questi titoloni, magari sperano che qualche procura, qualche magistrato si svegli e attacchi di nuovo la Juve, l'attacchi nuovamente. Però questa volta vi posso dire che potete scrivere tutto quello che volete. La Juve è solida. La Juve ormai è un progetto. Arrivare al 2027 e risanare il debito. E vi posso assicurare che la Juve ce la farà. Perché la Juve è partita da 500, 600 milioni, 700 milioni di debiti. Pian pianino stiamo scalando. È vero che chiuderemo anche questo bilancio in rosso. Ma è normale. Vedi chi è che non chiude in rosso le squadre che sono sempre competitive per vincere. Prendetemene una. È ovvio che se tu non competi e non vuoi vincere, difficilmente fai debiti. Purtroppo oggi questo è il calcio. Purtroppo oggi questo è la realtà. Vuoi vincere, vuoi andare avanti. I debiti li devi fare. Ma un gondo è fare debiti, farti pignorare. Ti assorbe un fondo bancario. Un gondo dietro c'è Elkan. Un gondo dietro c'è Lexor. Che tiene tutto sotto controllo. E poi una cosa che voglio dire. La Juve attualmente ha una dirigenza che sta lavorando proprio per questo. Il Ferrero. Il Scanavino. È vero che qualcuno può dire sì, gente fredda, non viene freddamente la Juve. Questi sono qui per sanare il debito della Juve. È la cosa più importante che c'è. Differenza, ripeto, di altre società che attualmente sono veramente in un'isola deserta. Senza neanche una zattera. La Juve non ha bisogno della zattera. Perché la Juve, dietro a una nave da crociera, rendo l'idea, rendo l'esempio ancora più lambante. Perciò non fidatevi di questi tizofoni. Poi può darsi che loro hanno ragione, noi abbiamo torto. Però ogni anno la Juve è sempre in piedi e non vende mai la società. Non fallisce mai, non viene mai pignorata, non viene mai assorbita da un fondo bancario. Non si parla mai di fallimento. Società invece che sono fallite, sono andate in serie D, sono risalite, poi vincono. E poi si mandano che non hanno debiti. Ma ricordatevi che la Juve da 100 anni è la stessa società. Società che hanno cambiato 4 o 5 società. In mano a fondo i bancari, però cosa fanno? Ci sono questi titoloni che vogliono spaventare un po' l'ambiente. Vogliono, o meglio, destabilizzare la Juve. Diciamo che erano partiti per destabilizzare nel pre-Juvenapoli con il caso Elkan. In un caso che poi vi vogliono ripetere, privato, non ha niente a che vedere col calcio. Però volevano, diciamo, infiammare questo Juve-Napoli, mettendo in difficoltà la Juve. Ma non ci sono riusciti. Io quello che voglio dire ai tifosi della Juve, non state dietro a questi titoloni, stiamo noi dietro alla Juve a sostenerla. Perché la loro è soltanto invidia. E poi lo voglio dire, la chiamo brutta cattiveria. Prontamente, subito, col titolone per infancare la nostra Juve. Come scrivono, andate a leggere, ve l'ho fatto già vedere, chi sono ovviamente questi siti, questi giornali, dove stivano che non basterà, che non basterà ovviamente una ricapitalizzazione personale tutto. Ragazzi, la Juve in 8 anni, se non sbaglio, ha ricapitalizzato 900 milioni di euro. La Juve soldi, maledettamente, per gli altri ce l'ha. Mi dispiace dirvelo, noi non falleremo mai. Prima che la Juve fallisca, credetemi, la serie A è già fallita di quattro secoli. Ci tenevo a fare questo contenuto per farvi capire a volte che il titolone è un gondo, più delle volte la realtà è veramente altra. Iscrivetevi al canale se questo video è stato di vostro gradimento, lasciando like e poi commentate perché voglio sapere assolutamente la vostra opinione sui titolone, sulla guerra mediatica contro la Juventus, macchina di fango, chiamiamola come vogliamo, però ogni volta è sempre la solita storia. La campanellina così non vi perderete mai un video e siamo sempre live. Fino alla fine, forza Juventus, io mi ne vaio, o sa benedica a tutti i picciotti, ciao. Grazie a tutti.